Non accenna a diminuire l'ondata di rapine che sta interessando la città di Cosenza. Questa volta ad essere presa di mira è stata una tabaccheria in via Monte San Michele. Quattro, forse cinque malviventi a volto coperto hanno fatto irruzione poco dopo l'eventuno con in mano un coltello, facendosi consegnare l'incasso dalla proprietaria e dal figlio. Subito dopo si sono dileguati facendo perdere le proprie tracce. Sul posto sono intervenute due volanti della questure. Al momento della rapina non erano presenti i clienti all'interno del locale. Quest'ultimo episodio di microcriminalità è forse quello più inquietante poiché è stato commesso di sabato sera in pieno centro cittadino e in una zona frequentata da molti ragazzi. Nel corso della notte uno dei malviventi è stato arrestato e posto ai domiciliari. Gli agenti lo hanno bloccato a poca distanza dalla tabaccheria rapinata con parte della refurtiva addosso. Le indagini proseguono con le forze dell'ordine impegnate nella ricerca degli altri responsabili. Intanto il questore Liguovi ha disposto servizi straordinari di patrugliamento delle strade per arginare il fenomeno delle rapine che mette paura ai commercianti. Da Cosenza per la CNews24